buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino siete su fano tv canale 17 tra pochissimo vi faremo vedere i titoli e le notizie più importanti della giornata con i giornali il corriere carlino che tra poco vi mostreremo intanto andiamo a vedere il santo del giorno e anche le previsioni del tempo oggi è santa barbara il sole sorgerà alle 7 28 e tramonterà le 16 e 32 uno sguardo anche al tempo per oggi nel pomeriggio avremo deboli piovaschi nelle zone interne in particolare nel settore settentrionale della regione il limite delle nevicate sarà attorno ai 1700 metri per quanto riguarda il vento avremo vento fresco lungo la costa e burrasca forte nelle zone montane per domani sabato 5 dicembre allora avremo deboli precipitazioni diffuse nei settori montani precipitazioni nevose limitate alle vette più alte dell'appennino ancora vento moderato e forte lungo la costa di tempesta addirittura fate molta attenzione in montagna domenica 6 dicembre ancora nella prima parte della giornata rovesci con limite delle nevicate attorno ai 1400 metri temperatura ancora in diminuzione nei valori massimi vento forte lungo la costa burrasca in montagna e poi nel pomeriggio il vento cambia attenzione alle mareggiate domenica lungo la costa allora iniziamo la nostra segna stampa dicendo subito a tutti i marchigiani che ci seguono in questo momento in diretta nelle repliche su facebook ovunque voi ci guardiate in questo momento diciamo subito questo perché ieri è uscito il dpcm chiaramente conta parlato di tutti i divieti ci ha detto cosa possiamo fare cosa non possiamo fare ma non ha parlato di colorazioni di eccetera eccetera allora diciamo subito che la regione marche è e sarà arancione ancora fino a mezzanotte di sabato quindi ancora tutta la giornata di oggi e la giornata di domani quindi oggi chiaramente arriveranno notizie ancora più precise anche se poi da domenica tutto dovrebbe rientrare e quindi dovremmo essere in zona gialla questo perché perché l'indice rt è diminuito anche nella nostra regione così come in tutta italia quindi l'indice di contagio e anche la situazione degli ospedali posti letto soprattutto che l'altro indice che si fa il parametro uno dei più importanti viene considerato è ancora comunque abbastanza insomma accettabile ecco diciamo che sì ci sono persone in terapia intensiva pazienti in terapia intensiva però la situazione negli ospedali è sotto controllo di questo e di altro parleremo nella rassegna stampa il prima la prima pagina del resto del carlino eccola qua la vediamo tamponi di massa questa è un'altra notizia importante che è da non sottovalutare perché saranno tamponi gratuiti su base volontaria in tutta la regione a pesaro si parte il 18 scontrini la lotteria delle proteste il concorso del governo deve partire ma già i negozianti si lamentano serve tempo e casse rinnovate raffica di reazioni invece la dichiarazione di giorgia latini assessore regionale che aveva detto ieri sono contrari all'aborto discuterne e ha detto che avrebbe avuto piacere di discuterne in giunta su di lei adesso è scatenata questa bufera chiaramente da tutti quelli che in particolare di sinistra covid muore un imprenditore di 63 anni di pian di meleto poi i test sierologici in farmacia subito boom di prenotazioni e poi una storia una storia di fede un ingegnere che si converte tre sacramenti e ha ricevuto tre sacramenti in un solo giorno poi lieto fine per una cagnolina intrappolata nella tana di volpe ma alla fine viola si salva e il basket vl e contagi così il biolab marca stretti squadra e giocatori di taglio basso la cronaca insegue la ex fino in campagna è stato arrestato non accettava la fine del matrimonio un cinquantenne fermato per lesioni e atti persecutori alle sorgenti del cesano morì invece di gamberi gamberi di fiume colpa della peste è una malattia causata da un fungo contate 800 carcasse di esemplari rari il corriere adriatico invece su tutte le edizioni pubblica questa immagine questo grafico che racchiude sintetizza un po le voce per voce il divieti per queste vacanze che stanno per arrivare voce per voce il rigido vademecum per le vacanze il titolo invece è i coprifuochi di capodanno ristoranti hotel sci cenoni e ricongiungimenti tutte le severe regole dal 21 dicembre al 6 di gennaio poi sempre dalla prima perseguitata dall'ex marito l'incubo finisce con l'arresto l'uomo non accettava la fine del matrimonio altri due denunciati è scattato il codice rosso e poi identificato l'aggressore del miralfiore ma lui è sparito conte blind del natale lira delle regioni il mille morti record da inizio pandemia il premier se abbassiamo la guardia in gennaio avremo una terza un data violenta saranno festività diverse ma non meno autentiche intanto il corriere adriatico titola roma accende la luce marche da domenica di nuovo in zona gialla inserata il contatto tra il ministro il ministero della salute palazzo raffaello oggi l'annuncio che probabilmente tutti quanti attendono cioè il passaggio e il ritorno in zona gialla l' rt intanto è sceso a 0,75 ma acquaroli non si sbilancia poi alle 21.45 ha pubblicato acquaroli un post sibillino sulla sua pagina facebook dove in sostanza qui si legge male ma cerchiamo di che dargli un'interpretazione sembra quasi un testo ebraico dunque domani sapremo in maniera se potremo tornare in zona gialla questo sostanza è quello che ha scritto acquaroli allora cosa si può fare cosa non si può fare dal 21 dicembre perché la range è questo 21 dicembre 6 di gennaio allora andiamo velocemente così cerchiamo di capire perché poi non è mai abbastanza ricordarcelo c'è sempre qualcuno che si dimentica in fretta allora domanda numero uno posso uscire dalla regione o dal comune dal 21 dicembre fino al 6 di gennaio sarà vietato ogni spostamento in entrata in uscita tra le regioni o province autonome tra le regioni sarà invece possibile muoversi all'interno della propria regione di residenza ricordo dal 21 dicembre fino al 6 di gennaio poi però sempre in questo lasso di tempo ci sono altre tre giornate che bisogna ricordare bene segnare bene nel calendario il giorno di natale il giorno di santo stefano e quello del primo dell'anno quando sarà vietato invece non solo andare fuori regione ma anche spostarsi da un comune all'altro della propria regione quindi natale santo stefano e primo dell'anno non ci si può spostare da un comune all'altro anche all'interno della propria regione questo è un rafforzamento che hanno previsto appunto hanno voluto quelli del comitato tecnico scientifico mentre dal 21 dicembre fino al 6 di gennaio in regione ci si può spostare eccetto queste tre date che vi ho appena detto e non si può uscire però dalla dalla regione per andare in un'altra regione poi un'altra cosa chi ha le seconde case il 25 26 dicembre così come il primo gennaio non sarà possibile spostarsi verso le seconde case che si trovano in un altro comune rispetto a quello di residenza poi l'altra domanda posso prenotare andare in albergo nel pacchetto di vieti c'è quello di tenere aperti i ristoranti negli hotel la notte di capodanno è stata una scelta presa dopo aver verificato che molti cittadini già avevano prenotato stanze negli alberghi di tutta italia con la cena compresa chiaramente sarà una cena un po così un po sottomessa tra virgolette non potranno esserci feste danzanti eccetera eccetera non è il classico cenone che noi abbiamo fatto fino all'anno scorso insomma ecco è diverso però la cena si può fare quant'altro quali sono le regole del veglione a casa propria sarà possibile festeggiare la notte del 31 dicembre il coprifuoco però scatta dalle 22 alle 7 cosa significa che qui c'è la raccomandazione di fare l'ultimo dell'anno soltanto con quelli di famiglia perché o tenete gli amici dentro casa fino alle 7 del mattino quando poi potranno uscire e tornare di nuovo a casa però devono essere dello stesso comune perché non possono andare nel comune non possono il primo di gennaio non si può andare da un comune all'altro quindi o sono lo stesso comune oppure alle due di notte finita la festa tornano a casa passando per i boschi insomma non mi pare che sia una cosa un inizio di quelli entusiasmanti poi dipende dai gusti gli hotel effettueranno solo servizio in camera quindi se volete andare a festeggiare in hotel solo servizio in camera vietate le crociere a meno che non avete prenotato la cena il cenone in albergo e quindi siete già lì ma vietate le crociere poi dal 21 dicembre fino al 6 gennaio cosa rischio se infrango la legge da 280 euro fino a 560 euro in caso di recidiva se invece siete fuori casa ma dovevate stare in quarantena perché dovevate avevate la quarantena obbligatoria c'è la denuncia penale e l'arresto da 3 a 18 mesi poi posso andare a trovare i miei genitori nel caso in cui i genitori non siano autosufficienti sarà sempre possibile andare ad aiutarli anche se vivono in un'altra regione o comune poi chiaramente c'è l'autocertificazione però in questo caso bisogna sempre tenere presente che le persone anziane sono quelle più vulnerabili quindi prima di trovare scuse e di andare a trovare i genitori anziani per con la scusa di andare via poi pensate sempre che è l'anello debole di tutta questa faccenda i centri commerciali invece rimarranno chiusi nel fine settimana gli alimentari le edicoli i tabacchi resteranno aperti confermate gli stop alle palestre piscine musei si può andare a trovare gli anziani soli però come abbiamo detto attenzione allora su questo fronte le aperture prolungate fino all'epifania le saracinesche si abbasseranno alle 21 come vedete i negozi possono restare aperti fino alle 9 di sera questo fino al 6 di gennaio prossimo discorso diverso invece per i centri commerciali che resteranno con le saracinesche abbassate nei fine settimana così come nelle giornate festive poi le norme per quanto riguarda gli alberghi ammazza cenone solo servizio in camera la notte di san silvestro l'abbiamo visto poco fa gli studenti torneranno in classe del 7 gennaio le presenze il 75 per cento per le superiori per chi decide di andare all'estero invece e quando deciderà poi di ritornare nel nostro paese dovrà andare in quarantena obbligatoria quindi deve stare giorni a casa quindi non solo le ferie dovrà prendere al lavoro anche i giorni che serviranno per la quarantena poi via libera il pranzo di natale capodanno ma a tavola massimo 4 commensali quindi le attività di servizi di ristorazione fra cui bar pub ristoranti gelateria pasticcerie sono consentite dalle 5 fino alle 18 quindi come era prima in zona gialla eccetera eccetera il consumo al tavolo è ammesso per un massimo di 4 persone fatto salvo che i commensali siano tutti conviventi quindi tutti di famiglia dopo le 18 invece è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico quindi c'è poi la consegna a domicilio che resta sempre possibile quindi l'asporto fino alle 10 di sera in quanto i ristoranti saranno aperti anche attenzione pranzo a pranzo saranno aperti a natale santo stefano capodanno e per la befana ora chiaramente nei comuni dove non c'è un ristorante parliamo di piccoli comuni chiaramente il problema vabbè quelli mangeranno a casa comunque bisogna andare nei ristoranti del proprio comune perché natale santo stefano prima dell'anno non si può uscire da un comune all'altro quindi bisogna ragionare anche in questo senso non è che dici vado a mangiare al ristorante vado in un ristorante che sta fuori dal mio comune di residenza quindi sono tutte cose che bisogna stare a te perché uno va poi va fuori e paga la multa allora tutti a casa dopo le 22 invece questo è il coprifuoco questa è un'altra cosa a cui bisognerà tenere presente sempre ogni volta che si fanno le cose nessun cambiamento per quanto riguarda il coprifuoco quindi dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino seguente mentre la normativa diventerà ancora più ristretta per il prossimo primo gennaio quando il giro di vite durerà fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 il ministro Boccia l'aveva detto il coprifuoco e il limite degli spostamenti sono punti irrinunciabili poi non si va a sciare fino al 7 di gennaio sulle piste soltanto gli atleti in arrivo a norme antisembramento poi per quanto riguarda le messe nel giorno di Natale abbiamo detto che le funzioni verranno anticipate alle 8 di sera perché il coprifuoco resta fissato alle 22 inoltre verranno celebrate più messe a Natale all'interno delle parrocchie per diluire la presenza dei fedeli ed evitare assembramenti va considerato che proprio la liturgia natalizia è la più seguita dell'anno secondo la tradizione italiana allora troppi di vieti e dubbi riapriamo i ristoranti ma il futuro è oscuro la categoria è messa a dura prova i giorni delle feste restano un'incognita si prevedono almeno 5.000 addetti del settore che finiranno in cassa integrazione il gelo sulle visite ai familiari saranno consentite soltanto ad anziani non autosufficienti il CTS chiede deroghe per i piccoli comuni Conte chiarisce i casi di necessità tamponi di massa a tutta la regione Marche saranno gratis e su base volontaria a Pesaro si comincia il 18 dicembre prossimo poi a seguire ci sarà Fano sono gli antigenici quelli rapidi che daranno una risposta in 15-30 minuti esclusa una serie di categorie chi è stato positivo, chi ha sintomi del virus poi i bambini sotto i 6 anni e ancora sull'altra pagina della nostra rassegna stampa sui test sierologici in farmacia è partito l'assalto costano 19 euro l'abbiamo già detto ieri ma vanno prenotati si comincia lunedì prossimo molte richieste sono legate al fatto che la gente vuole chiarezza sulla salute prevedendo le visite natalizie ai parenti quindi cosa succede? succede che appunto queste persone che vogliono andare a trovare i parenti laddove è possibile vogliono andarci in sicurezza e quindi è giusto magari è bene fare questi test rapidi in modo tale che uno va a incontrare il prossimo con sicurezza a Quaroli saremo in zona arancione fino a mezzanotte di sabato vedete quello che vi dicevo all'inizio della rassegna il Presidente annuncia decisioni sulla zona gialla per oggi quindi sapremo oggi con esattezza se è così oppure no ma non dovrebbero esserci sorprese intanto per il personale del San Salvatore via i test rapidi lo screening sarà su base volontaria e rivolto ai soggetti asintomatici per sicurezza gli esami verranno poi ripetuti con cadenza frequente premi Covid ancora nulla di fatto i sindacati non firmano dunque l'accordo adesso il problema di Marche Nord siamo sempre sul tema della sanità sapete che l'altro giorno l'altra sera anche nel nostro telegiornale Stefano Guzzi l'assessore regionale a un certo punto ha detto Marche Nord l'azienda ospedaliera Marche Nord non è più un dogma come dire può anche si può anche sopprimere questo perché perché Marche Nord era stata istituita era stata creata per la gestione dell'ospedale unico ma come sapete la centrodestra con Acquaroli in testa ha già nella sua testa di non completare questo ospedale unico a Muraglia di conseguenza l'azienda che avrebbe dovuto gestirlo può anche essere eliminata nessuno tocchi Marche Nord questo è il titolo di oggi del resto del Carlino ma il piano sanitario dov'era? Il duello tra il sindaco Ricci e l'assessore regionale Guido Castelli il primo attacca e dice se il problema è il project financing cambiate l'importante è fare l'ospedale il secondo quindi Castelli dice nosocomio sì ma non unico la regione parli con una voce unica perché in giunto ognuno sta dicendo una cosa diversa evidentemente riferendosi appunto a Stefano Guzzi che aveva rilasciato questa dichiarazione anche se poi aveva parlato un po' a nome del partito di Forza Italia che rappresenta ospedale che confusione regione in ordine sparso ridimensionato ridimensionamento e addio azienda speciale Ricci replica da Guzzi e non solo deve parlare una voce unica perché ogni assessore sta dicendo una cosa diversa mentre sul resto del Carlino bypass qui parliamo di strade Seri chiede l'Umi al Ministro a complicare le relazioni tra Fano e Pesaro si aggiunge anche la questione dell'arretramento della ferrovia la missiva è partita per Roma dunque dopo la sanità e dopo il biodigestore a complicare le relazioni tra Fano e Pesaro si aggiunge l'arretramento della ferrovia o meglio il progetto definitivo del bypass di Pesaro il progetto fa così arrabbiare il Sindaco Seri da decidere di scrivere al Ministro De Michele e al Presidente Acquaroli nonché all'assessore Baldelli nella missiva Massimo Seri esterna il suo stupore di fronte a tale decisione sollecita la formazione di un tavolo tra istituzioni a cui possano partecipare con pari dignità tutti gli enti a vario titolo interessati da un'opera decisiva per il futuro della Regione Marche capite che spostare la ferrovia quella attuale che costeggia la costa la spiaggia spostarla arretrarla e farla passare all'interno insomma non è un'operazione che si fa domani mattina è un'operazione per la quale staremo qui a parlare per altri minimo vent'anni regioni c'è area di scontro con Roma Baldelli Ancona centro del progetto il governo Valento levata di scudi degli enti l'assessore svele il piano Porto anzitutto poi l'aeroporto il Sanzio poi le strade e anche le ferrovie la lista vedete della regione Marche di tutte quelle opere di tutte quelle infrastrutture che servono per ammodernare un po' questa nostra regione che è un po' lasciata e tagliata fuori da Roma e non solo ma anche da altri posti perché abbiamo una ferrovia la Orte Falconare che fa pena la Civitanova Albacina che va elettrificata tante strade e tante scusate tratte di ferrovia di smesse tra cui anche la Fano Urbino e poi c'è il collegamento ferroviario merci porto interporto insomma diciamo che a livello infrastrutturale le marche sono molto indietro procedura di infrazione invece andiamo sulle spiagge l'incubo della Bolkestein per gli operatori balneari Bruxelles mette in moral Italia quindi bisognerà pagare multe soldi che aveva sospeso fino al 2033 la direttiva europea sulle spiagge Monachesi del Sib dice un'Europa di burocrati Borioni dice è l'unico modo per investire no all'aborto e bufera sull'assessora Giorgia Latini mette in discussione la pillola RU486 e scatena le polemiche la sottosegretaria Morani parla di propaganda allucinante quando in realtà credo che qui di allucinante ci sia soltanto ancora l'idea di poter uccidere pensando che questo sia una conquista sia un diritto mio parere ma insomma questo è Ingegnere riceve tre sacramenti in un giorno battesimo cresimo e comunione in un'unica cerimonia domenica scorsa i cappuccini sono figlio di buddisti ero agnostico è un bell'articolo che scrive oggi Luigi Di Ottallevi su questa persona eccolo qua in questa fotografia Alessandro Sereni con il saio bianco insieme a padre Marzio Calletti ai familiari dopo la cerimonia religiosa familiari che sono buddisti però hanno sempre lasciato carta bianca a questo figlio anche di partecipare a scuola alle lezioni di religione invece questa è una storia che ho letto questa mattina e vi voglio segnalare perché non si sa mai nella vita magari c'è qualche telespettatore che in questo momento ha la possibilità di aiutare questo giovane ragazzo afgano che è rimasto completamente paralizzato era un ragazzo normalissimo a un certo punto ha deciso di attraversare i confini quindi di venire qui nel nostro paese di trovare probabilmente una vita una vita migliore e che cosa ha fatto in una caldissima estate appena maggiorenne appena diciottenne arrivò nel porto di Ancona in fin di vita lui si era agganciato sotto il cassone di un tir proveniente dalla Grecia fuggiva dalla guerra da una vita di privazioni dall'Afghanistan si era rifugiato come profugo in Iran ma questa fuga assurda inumana si è conclusa per lui nel peggiore dei modi è entrato in coma per mancanza di ossigeno e per via delle esalazioni ripeto si è agganciato sotto a un tir e al risveglio in ospedale era ormai paralizzato senza più neanche l'uso della parola altri due ragazzi che erano con lui non sono riusciti a sopravvivere mentre Anwar che significa luminoso ha subito danni permanenti irreversibili senza la più minima possibilità di muoversi di parlare ora lo hanno aiutato va detto è una bellissima storia c'è questa mamma che si chiama Fatima che poi è tornata per per aiutarlo con lui anche il fratello minore eccetera allora di che cosa hanno bisogno hanno bisogno di una casa hanno bisogno di una casa senza barriere architettoniche ecco se qualcuno ce l'ha il resto del carlino è il riferimento se qualcuno ce l'ha aiuti questo ragazzo o questa famiglia la famiglia la mamma lavora lavora ed è regolare quindi possono spendere fino a 500 euro d'affitto possono spendere non di più e c'è una persona che fa da garante ecco manca solo la casa ce ne sono una marea sfitte magari qualcuno di voi ce l'ha loro sono in Ancona magari non farli spostare troppo se è possibile e quindi questo è l'appello che noi lanciamo andiamo su Fano i comuni noi ci siamo raccolto l'appello di seri se Fano alzerà la testa di fronte a Pesaro noi le saremo al fianco sanitari rifiuti e servizi anche i sindaci delle vallate scendono in campo se Fano alzerà la testa di fronte a Pesaro noi le saremo a fianco se non vogliamo subire le decisioni ma gestirle non possiamo più procedere in ordine spasso basta rinchiudersi ognuno nel proprio giardino la provincia non è solo Fano e Pesaro questo è quello che dicono in sostanza i sindaci delle vallate del Cesano e del Metauro che sono pronti a cogliere l'invito al dialogo lanciato dal sindaco Seri su sanità rifiuti infrastrutture e servizi e qui come vedete ci sono i quattro sindaci anzi cinque sindaci delle nostre appunto vallate del Cesano e del Metauro tre codici rossi a tutela delle donne siamo sul Corriere un ex marito cinquantenne finisce in cella altre due denunce suocero perseguita l'ex nuora e sessantenne molesta anche la figlia minorenne della vittima insomma tante storie che vengono raccontate in questo articolo sul Corriere Adriatico ex ballerino di Amici arrestato per violenza sessuale il caso a Viterbo nel 2010 condanna ora definitiva a Fano faceva il postino deve scontare due anni e undici mesi di carcere nel processo si è sempre professato innocente si accendono le luci di Natale che spettacolo il sindaco parla di atmosfera diversa ma non brutta gli auguri della città dal teatro in diretta su Fano TV poi il mix di orchestra sinfonica Rossini e ginnaste dell'Aurora scrive Massimo Fughetti questa mattina sul giornale e poi un'altra un'altra notizia che arriva da Urbino Urbino che ha bisogno di studenti e di turisti per andare avanti per far girare un po' l'economia Cigelle e Cisla busano alla porta del sindaco chiedono un confronto per sostenere imprese e famiglie e lavorare alla ripresa lavori invece alla RSA la casa di riposo di Monbaroccio i lavori sono in ritardo Salta Martini si è impegnato l'allarme del sindaco di Monbaroccio con la consigliera Ruggeri dice deve riaprire questa struttura il 15 da Fossombrone stralciati i lavori in via Roma a Bonci ci sono altre priorità la minoranza contesta il rinvio dell'opera programmata niente più e più urgente poi a Fano attenzione guardate questa fotografia in tanti lo conoscono addio a Mancini storico commerciante fanese aveva gestito il negozio di elettrodomestici lungo il corso aperto nel 1908 scompare a Fano un altro commerciante storico Giuseppe Mancini aveva 96 anni il funerale è stato celebrato ieri mattina nel Duomo di Fano la morte è sopraggiunta nella giornata di lunedì dopo il ricovero al Santa Croce Mancini lascia 5 figli siamo in chiusura strage di gamberi nel Cesano il killer è un fungo patogeno carabinieri forestali accertano la morte di 800 esemplari dopo l'allarme degli escursionisti tartufo un momento no anche per l'export che non brilla l'esperto Cristini chiedono pepite tonde perfette difficile però da trovare qui da noi la peste fa strage di gamberi di fiume questa è l'altra notizia sul Carlino e poi Mangialardi affronta il processo per l'alluvione sulla pagina di Senigallia lo sport Vis Lazari gioca e Marchi ci spera sul fronte fanese speriamo in una vittoria magari senza meritarlo e poi la VL che vola su tutti i fronti ma senza il pubblico è difficile è tutto ci vediamo stasera alle 20 e 30 con Occhio alla Notizia e il telegiornale arrivederci grazie grazie grazie